Cari concittadini, facciamo anche oggi un punto sulla situazione dell'epidemia nella regione Campania. Noi cerchiamo di darvi un'informazione complessiva ogni settimana per non inondarvi di parole, perché comincio ad avere la sensazione che fra poco ci sarà un rigetto da parte dei nostri concittadini rispetto anche alla valanga di parole che continuiamo a ripetere sulla epidemia. Cerchiamo di darvi un'informazione settimanale riassuntiva della situazione che abbiamo davanti. In questo momento in Campania abbiamo 750 contagi, 79 persone ricoverate in terapia intensiva. La previsione che fanno i nostri tecnici è questa. Entro il 29 marzo saremo a 1.500 contagi. Entro inizio aprile avremo 3.000 persone positive contagiate e 140 persone in condizione da richiedere un ricovero in terapia intensiva. Vi ripeto i dati, fine marzo 1.500 contagi rispetto ai 750 che abbiamo oggi. Inizio aprile 3.000 persone contagiate, 140 in terapia intensiva. Questi sono i dati. Ora è del tutto evidente che siamo di fronte a dati pesanti. Io credo che rispetto a questi dati abbiamo la possibilità di governare la situazione se si rispettano alcune condizioni, ovviamente. Su una popolazione di circa 6 milioni di abitanti, questi dati rappresentano un problema gestibile. ma se abbiamo comportamenti irresponsabili, se tu costruisci ed altri demoliscono dietro di te con la loro irresponsabilità, il problema rischia di diventare davvero drammatico. Una considerazione di carattere nazionale. Ora, per parlare con grande chiarezza e con grande senso di responsabilità, io la penso diversamente dal governo nazionale. Nel senso che io ritengo che le mezze misure non risolvono il problema e finiscono per aggravare la condizione di vita dei nostri concittadini. Mi dispiace dover rilevare che ancora una volta l'Italia si rivela il paese del mezzo-mezzo, come dico io, e del fare finta. Del mezzo-mezzo, cioè non decidiamo mai una cosa chiara fino in fondo. E del fare finta, cioè non facciamo mai la verifica concreta di quello che succede nella realtà una volta fatte le ordinanze. Mi spiego con qualche esempio relativo alle mezze misure. Non possiamo decidere che dobbiamo stare tutti a casa e poi consentiamo di andare nei parchi o di fare footing la mattina o di fare attività sportiva individuale. Non possiamo dire che dobbiamo mantenere la distanza di un metro e poi consentire magari per due settimane che rimangano aperti i bar, i pub, che ci sia la movida uno addosso all'altro e così via. Non possiamo dire che vi potete muovere però a condizione che forniate l'autocertificazione. sappiamo bene che questa è una finzione perché nella realtà non si controlla niente. Allora, che cosa determina, come dire, una politica delle mezze misure? Determina questa situazione che i cittadini corretti, l'80% in campagna, vivono una condizione di vita pesante ma questo loro sacrificio rischia di essere vanificato dalla irresponsabilità di un 20% di persone in civile. E quindi noi rischiamo non di fare un sacrificio di un mese ma risolutivo in qualche modo rispetto all'obiettivo di contere il contagio ma rischiamo di trascinarci un calvario che dura mesi. Cioè rischiamo di penalizzare le persone corrette senza avere il risultato a cui puntiamo. Io ritengo che sia arrivato il momento, per la verità, per quello che ritengo io, era arrivato già due settimane fa, per chiudere tutto e militarizzare l'Italia. Quando uno adopera in Italia questa espressione c'è sempre qualche scienziato che comincia a storcere. Che significa militarizzare? Significa che se abbiamo deciso che l'obiettivo vitale per l'Italia è contenere il contagio per evitare di contare a migliaia i nostri morti, se questo è l'obiettivo, tutti i corpi dello Stato devono essere funzionalizzati rispetto a questo obiettivo. Noi abbiamo chiesto da parecchio tempo l'invio delle forze armate per il controllo del territorio a supporto delle forze dell'ordine. Abbiamo avuto un primo risultato, arrivano 100 unità, 70 delle forze armate in aggiunta è una cosa che io apprezzo, ma che non servirà a molto per la dimensione del problema che noi abbiamo. Faccio un'altra considerazione, siamo in Campania. La prima emergenza che c'è in Italia ovviamente è la Lombardia, non ce ne ha che a discutere. Io provo a immaginare che cosa succede in Italia, non da noi, se perdiamo il controllo nell'area più densamente abitata d'Europa, che è l'area metropolitana della Campania. In questo caso, i morti li conteremo a migliaia. Non so se è chiaro questo discorso. A me è assolutamente chiaro. Ho la sensazione che non sia altrettanto chiaro a livello nazionale. Allora, io mi auguro ovviamente che noi prendiamo misure chiare, determinate e definitive. Le misure tampone, il mezzo-mezzo, non serve assolutamente a niente. Questo deve valere anche per i poteri delle forze dell'ordine che vanno a presidiare il territorio. Non possiamo anche qui tornare ad essere l'Italia del fare finta. Se c'è una pattuglia, questa pattuglia deve avere i poteri per dissuadere le persone incivili. Poteri significano sanzioni, pecuniavie, significa sequestro della macchina sulla quale vai girando senza motivo. Significa, lo dirò più tardi, rispetto anche delle ordinanze che ha fatto la regione Campania che sono più rigorose di quelle nazionali. Noi abbiamo fatto un'ordinanza che prevede che chi va girando senza motivo deve essere multato dalle forze dell'ordine e segnalato all'ASL perché sia messo obbligatoriamente in quarantena per 15 giorni. Perché se vai perdendo tempo nella città sei un trasmettitore di contagio e devi essere isolato. Allora, questo fa parte di una visione realistica del problema che abbiamo oggi in Italia. Io credo che sia indispensabile il controllo militare del territorio con poteri eccezionali alle forze dell'ordine. Se poi abbiamo paura di dirci la verità ce lo raccontiamo e stiamo tranquilli tutti quanti ci prepariamo a contare i nostri morti punto e basta. Se vogliamo fare sul serio è arrivato il momento siamo già in ritardo per cercare di bloccare per quanto possibile l'aumento esponenziale del contagio anche nel sud e per quello che mi riguarda in Campania perché altrimenti avremo un problema moltiplicato per tre oltre la Lombardia avremo un'esplosione di contagio di fronte alla quale lo Stato italiano sarà totalmente indifeso. Il quadro non è rassicurante ma credo che sia un linguaggio di verità quello che sto parlando. Né più né meno. Torno alla Campania Noi abbiamo avuto un incremento rilevante ovviamente dei contagi quali sono secondo noi le cause? La prima è rappresentata dai rientri incontrollati dalla Lombardia, dal nord nelle regioni del sud dopo dieci giorni da quel controesodo di massa cominciamo a misurare i primi effetti. Il contagio va diffondendosi a Macchianoli. Secondo, abbiamo avuto un picco di contagio del personale sanitario. Questo è uno degli elementi più preoccupanti. Noi dobbiamo mettere in campo il massimo di tutela vorrei dire più che per i malati per i medici e gli infermieri perché se arriviamo ad avere non l'8% di personale medico infermieristico contagiato come oggi ma il 20-30% allora davvero salta tutto. Quindi massima attenzione alla tutela dei medici e degli infermieri e del personale medico. Ma questa è stata un'altra componente perché qui abbiamo avuto un aumento rilevante di contagi. Terzo elemento, terza causa di questo aumento di contagio la inciviltà, la irresponsabilità, la bestialità di componenti rilevanti della nostra società che non hanno inteso rispettare in qualche caso per nulla le ordinanze che imponevano il domicilio che vietavano il movimento immotivato nelle città. In Campania noi siamo siamo al picco diciamo della inciviltà da questo punto di vista. Vedete, questo è un sondaggio che sia che credo sia presente questa mattina sulla stampa. Vedete che registra per la Campania un picco del 20% di persone che non hanno rispettato le regole. Ora, immaginare un 20% di cittadini che nell'area metropolitana continuano a vivere come se niente fosse equivale ad avere in casa una bomba che può esplodere nel giro di pochi giorni. Pochi giorni. Quindi io comincio a rivolgere un appello ai miei concittadini, ai cittadini della Campania e soprattutto dell'area metropolitana di Napoli. Cari amici, voi potete comportarvi come volete, ma dovete sapere che se continua questo andazzo fra una settimana conteremo i morti, conteremo i morti e rischiamo di non avere più posti neanche per ospitare i vostri padri e le vostre madri. Chiaro? Arrivano dalla Lombardia immagini drammatiche. Sapete cosa significa in una provincia, in una città 300 morti al giorno? Provate a immaginare che cosa può significare nell'area metropolitana campana. Imboccare questa discesa verso il contagio incontrollato. È stata la festa del papà. Abbiamo avuto a Napoli dei buontemponi che vendevano per strada le zeppole di San Giuseppe che portavano in omaggio al papà. Diciamo la zeppola condita con una bella crema al coronavirus. Siamo lì la bestialità totale. Allora queste sono le ragioni per le quali noi abbiamo registrato un picco di contagi nella regione. Di fronte a questa situazione di fronte ad assembramenti che continuano nei quartieri nei vicoli di fronte in qualche caso alla totale assenza di forze dell'ordine di polizie municipali. Di fronte al fatto che addirittura davanti agli ospedali penso al Cardarelli abbiamo assembramenti ancora maggiori gente che sta lì è incredibile. Di fronte a questa situazione che è pesante noi siamo chiamati come regione a fare uno sforzo gigantesco. ed è quello che stiamo facendo. Qualche giorno fa avevo parlato con Domenico Arcuri per presentargli il quadro della campagna e per dire quali erano le esigenze della campagna in relazione alle forniture che dobbiamo avere dalla protezione civile da Consi. Avevo avuto questo impegno che avrebbero che avrebbero inviato in campagna entro il 20 marzo 225 ventilatori polmonari e 621 caschi che servono per rendere possibile la ventilazione polmonare. Ad oggi sono arrivati in campagna 5 ventilatori polmonari. La campagna per reggere ha bisogno di 400 ventilatori polmonari nelle terapie intensive. Ne sono arrivati ad oggi 5. L'impegno era di avere questa fornitura entro il 27 29 marzo siamo oggi in questa situazione. Non è arrivato nulla. Mi auguro ovviamente che arrivi qualcosa. Io capisco abbiamo una situazione maledettamente complicata sul piano nazionale internazionale per l'amor di Dio però la realtà è questa. L'impegno che era stato assunto è saltato completamente. Di fronte a questa situazione ci siamo attivati come regione per tentare come sempre di risolvere per quelle che sono le nostre possibilità umane il problema al di là della protezione civile e di consile. Abbiamo avviato innanzitutto per i ventilatori una ricerca sul piano internazionale. Abbiamo verificato negli Stati Uniti d'America la lista di attesa per i ventilatori polmonari è di 4 mesi. siamo fuori tempo massimo. Abbiamo impegnato qualche nostro concittadino Alessio Fasano insegna all'Università di Harvard ci ha consentito di individuare attraverso canali scientifici quindi parlando con i responsabili dell'Accademia delle Scienze di Pechino di trovare dei fornitori cinesi di ventilatori polmonari ne abbiamo acquistati 150 il problema sono i tempi di arrivo e sono anche come dire i controlli che dobbiamo fare a Shanghai per accertarci che poi il carico dei ventilatori avvenga effettivamente sulle navi. in queste ore stiamo facendo queste verifiche per procurarci dalla Cina innanzitutto i ventilatori che sono già a terra nelle aziende e poi di settimana in settimana il resto della fornitura sempre in attesa che arrivino quelli della protezione civile. Intanto ci stiamo muovendo sul piano internazionale. Per quanto riguarda le mascherine anche qui non vi dico quello che ci è arrivato dalla protezione civile per carità di patria abbiamo proceduto da soli quindi con risorse della Campania e con la ricerca che abbiamo fatto noi sul mercato ad acquistare un milione e trecentomila mascherine P2 e P3 e abbiamo raggiunto un accordo per la fornitura di un milione di mascherine chirurgiche con aziende che abbiamo ritrovato individuato nella nostra regione credo che fra mercoledì e giovedì tireremo un respiro di sollievo saremo quasi autonomi per un mese ma non voglio dire cose per le quali attendiamo la verifica da lunedì questo è un dato certo ovviamente comincia la produzione di 50.000 mascherine chirurgiche da parte dell'azienda di Nola che ha stipulato un contratto con la regione per un milione di mascherine chirurgiche lo dico per informare i nostri concittadini che sappiamo anche noi che c'è un'emergenza ma più di questo non siamo riusciti a fare sul mercato mondiale abbiamo acquistato 700.000 kit per fare test rapidi per individuare pazienti positivi li avremo anche qui fra 3-4 giorni voglio anche chiarire che per quello che ci riguarda non faremo anche qui si sta ingenerando una grande confusione in Italia non è che possiamo fare il test di massa come si dice non è che prendiamo 6 milioni di cittadini campani ma come si fa questo vabbè sono parole al vento noi utilizzeremo il test rapido in primo luogo per garantire la tutela del personale medico infermieristico questa sarà la priorità assoluta test rapido è affidabile al 90-95% individuiamo innanzitutto i positivi ma l'obiettivo che abbiamo è individuare gli asintomatici quelli che non danno problemi ma soprattutto quello di proteggere il personale sanitario perché Dio non voglia lo ripeto andiamo verso un 20% di contagiati nel personale sanitario noi andiamo alla catastrofe dunque quella è la priorità non perdiamo tempo con altre cose che mi sembrano francamente molto irrealistiche e poco realizzabili terapia intensiva in primo luogo abbiamo proceduto anche qui autonomamente come regione campania abbiamo fatto una gara in 24 ore per individuare imprese che sul territorio nazionale avessero una disponibilità a realizzare moduli prefabbricati per la terapia intensiva rispetto alla previsione che vi ho detto 3.000 contagiati a inizio aprile necessità di 160 posti letto in terapia intensiva 140 abbiamo fatto anche qui una ricerca di mercato abbiamo fatto una gara se l'è aggiudicata un'impresa credo di Padova che si è impegnata a consegnare tre moduli da 24 posti letto Napoli Caserta Salerno e poi ogni 10 giorni altri due moduli da 24 per il Loretto Mare a Napoli quindi il Loretto Mare nel giro di 30 giorni avrà come dire 72 76 posti letto in terapia intensiva completa ovviamente la gara prevedeva non solo la struttura prefabbricata di terapia intensiva ma prevedeva anche che questa struttura fosse completa anche di ventilatori polmonari ovviamente quindi ci siamo mossi per dotarci quanto più rapidamente possibile autonomamente come Regione Campania di posti letto aggiuntivi nelle terapie intensive per essere adeguati al picco di contagio che ci aspettiamo a inizi aprile a questo ovviamente abbiamo aggiunto il piano covid ordinario della Regione Campania ordinario per modo di dire perché nella giornata di ieri abbiamo ridefinito gli obiettivi dati alle ASL sulla base di quella previsione di contagio cioè abbiamo chiesto a tutte le ASL e le aziende di raddoppiare le previsioni di posti letto per ricoverati diciamo in condizioni non drammatiche e di posti di terapia intensiva e post intensiva questo sottoporrà le nostre strutture ad uno sforzo eccezionale ma abbiamo detto ai dirigenti delle ASL che non c'è neanche da discutere è difficile è complicato come facciamo fate come diavolo volete questo è l'obiettivo svuotate i reparti la priorità è questa avere a disposizione fra non più di una settimana i posti letto necessari 460 per i ricoveri e i 140 160 posti letto in terapia intensiva mancano i ventilatori vedremo per i ventilatori intanto preparate le strutture poi vediamo quello che riusciamo a fare al piano al piano regionale covid partecipano praticamente quasi tutte le aziende ovviamente in primo luogo l'ospedale dei Colli Cotugno ma anche Monaldi Moscati di Avellino Loreto Mare che è un ospedale che abbiamo svuotato di tutto per avere a Napoli un ospedale interamente dedicato al covid Cardarelli nei due paviglioni MS l'ospedale di Scafati di Maddaloni in Ruggi d'Aragona Salerno il Daproci da Salerno Bosco Tre Case Napoli 3 Pozzuoli Napoli 2 Fratta Maggiore Giuliano l'azienda ospedaliera Federico II Sant'Anna e San Sebastiano Sant'Angelo dei Lombardi il presidio di Ariano abbiamo avuto un'emergenza ad Avellino abbiamo fatto un intervento rapido nella serata di ieri la seguiremo con particolare attenzione perché c'è stato un affollamento insostenibile al Moscati di Avellino la Van Vitelli a Caserta in parte il Santo Bono il Sampio a Benevento e poi per l'Asda di Salerno ospedali minori Rocca d'Aspide Vallo Oliveto Citra Polla Eboli Eboli Sapri e fra una decina di giorni Agropoli devo dire che fino a qualche giorno fa tutti i sindaci erano preoccupati ma che fate ci mettete l'ospedale per il coronavirus adesso lo chiedono tutti qua è l'Italia prima le paure irrazionali adesso hanno capito che metti l'ospedale dedicato significa che se hai pazienti che hanno difficoltà polmonari si salvano la vita bisogna sempre questo è il piano della regione per quanto riguarda la situazione ospedaliera quindi i posti letto di ricovero ordinario i posti letto di terapia intensiva l'acquisto di ventilatori polmonari che facciamo speriamo bene autonomamente dagli Stati Uniti alla Cina l'acquisto di mascherine sia chirurgiche sia P2 e P3 per essere autonomi almeno per un mese ovviamente ci aspettiamo che se non sulla base dell'impegno assunto almeno in una misura progressivamente crescente dalla protezione civile arrivi in Campania quello che la protezione si era impegnata a mandare e che fino ad oggi non è arrivato per niente stiamo facendo una verifica anche con le strutture private convenzionate se arriveremo in una situazione di tipo lombardo dovremo spostare i ricoveri ordinari nelle cliniche private convenzionate per liberare posti per i malati di covid pazienti ordinari e pazienti gravi quindi ci stiamo preparando ad un piano C diciamo che dovrà coinvolgere anche le strutture private convenzionali ora tutto questo sforzo in mane che stiamo facendo ovviamente poi devi correre appresso alle mille situazioni anomale che si creano tutte le parti la cosa principale da fare rimane quella sulla quale stiamo insistendo a volte senza successo in Italia e in Campania cioè senso di responsabilità senso di responsabilità più siamo rigorosi oggi più si accorciano i tempi dell'emergenza più facciamo gli imbecilli più questo calvario durerà mesi questo è il dato su cui ragionare allora abbiamo registrato comportamenti incivili ci ritorno un attimo primo manteniamo la distanza questo lo dico anche per il personale sanitario anche negli ospedali bisogna fare di tutto per mantenere a distanza a maggior ragione ovviamente nei quartieri nelle città c'è una stagione nella quale noi avremo centinaia i ragazzi che si laureano mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea mandiamo i carabinieri ma li mandiamo con i lanciafiagli ma è una festa di laurea ma fatela fra due mesi tre mesi quattro mesi è incredibile per i giovani voi ricordate quello che è successo una decina di giorni fa noi qui avevamo già avviato la chiusura dei locali ricordate le immagini dei giovani che facevano la movida tutti allegri ammocchiati l'uno sull'altro magari dopo aver bevuto dallo stesso bicchiere tutti allegri all'insegna del chi vuole essere lieto sia di domani non c'è certezza bene chi vuole essere lieto sia quelli che volevano essere lieti dieci giorni fa adesso se ne sono andati lietamente negli ospedali e hanno mandato in ospedale lietamente i loro papà le loro mamme i loro nonni possiamo decidere di vivere allegramente ma il risultato dopo dieci giorni è questo chi vuole essere lieto sia e poi se ne va in ospedale ovviamente quelli che sono venuti dal nonde non hanno avuto il senso di responsabilità di mettersi in auto isolamento stanno producendo anche loro i primi effetti e quindi cominciamo ad avere un picco un picco di contagi la regione Campania ha anticipato una misura una ordinanza che ancora non è stata assunta a livello nazionale e questo è un errore grave abbiamo deciso in Campania che fosse vietato lo sport in luoghi pubblici il footing le marce anche individuali nei quartieri sul lungomare avevamo chiesto uno sforzo di due settimane c'è stata gente che neanche per due settimane ha ritenuto rinunciare a fare footing sul lungomare abbiamo avuto persone che in maniera irresponsabile hanno dato vita a manifestazioni religiose con decine di persone abbiamo dovuto mettere in quarantena una zona della regione nel vallonidiano perché vi erano state due manifestazioni religiose queste non sono manifestazioni di spiritualità sono manifestazioni di imbecillità chiaro mi dicono che addirittura si pensa di fare manifestazioni per le prime comunioni le cresine questo è assolutamente vietato qualcuno addirittura di fronte alle nostre ordinanze ha fatto ricorso al TAR avevo firmato un'ordinanza che vietava il passeggio lo sport individuale è stato fatto un ricorso al TAR il tribunale amministrativo ha dato ragione alla campania quindi quei comportamenti sono vietati ed è grave che il governo non dica con chiarezza che è vietato andare a fare footing anche individuale cioè noi ogni varco che apriamo nelle ordinanze determiniamo un aumento del contagio non c'è niente da fare abbiamo registrato anche qualche episodio grave in una caserma delle forze armate non dico di quale corpo un ufficiale ha emesso quest'ordine di servizio vi leggo il primo punto di quest'ordine di servizio si devono applicare era rivolto alle pattuglie che uscivano sui territori si devono applicare solo le disposizioni emanate a livello nazionale in pratica e a titolo esemplificativo non sarà denunciato chi sta correndo così pure non si andrà ad imporre l'isolamento di 14 giorni né si andrà ad informare l'ASL delle trasgressioni accertate cioè un ufficiale di un corpo delle forze armate si è permesso di emettere quest'ordine di servizio ovviamente noi lo denunceremo all'autorità giudiziaria colgo l'occasione per spiegare anche agli ufficiali delle forze armate che l'ordinanza che fa il presidente della regione vale esattamente quanto l'ordinanza del governo nazionale e dal punto di vista della tutela sanitaria vale di più chiaro e chi non applica l'ordinanza della regione sta violando una legge e sta commettendo un reato di omissione ufficiale o non ufficiale che sia e sta commettendo un reato ancora più grave cioè sta prendendo iniziative volte a deludere un comando dell'autorità questo è un reato penale cioè mattiamo in giro le pattuglie le forze armate l'ira di Dio per fare che? per andare a passeggio allora era la seconda ordinanza che era stata impugnata al tribunale amministrativo e cioè quella che in Campania obbligava le forze dell'ordine a sanzionare chi andava a perdere tempo nei quartieri e impegnava le forze dell'ordine a segnalare all'ASN il nominativo di quello sanzionato per metterlo in quarantena obbligatoria anche in questo caso ricorso al TAR contro la pattuglia dei carabinieri che aveva fermato e comunicato e contro la regione il tribunale amministrativo grazie a Dio ha dato ragione all'ordinanza nostra ringrazio la pattuglia dei carabinieri e li invito a proseguire così con il massimo rigor questi dubbi interpretativi vengono anche dal fatto che le ordinanze nazionali sono vaghe si può camminare si può andare ma che si può se si chiude si chiude allora mi permetto di invitare il governo a emettere ordinanze perentorie non equivoche che non determinino anche equivoci interpretativi che non possono esserci in Campania valgono le ordinanze della regione dal punto di vista sanitario che sia chiaro a tutti abbiamo registrato anche qualche episodio di fake news vabbè Cardarelli medici assenteisti ringrazio il personale medico infermieristico del Cardarelli che sta facendo un lavoro eccezionale invito invece qualche dipendente nostro di Ariano Ippino ad andare a lavorare e mi permetto di chiedere un aiuto particolare ai medici di medicina generale perché in alcuni territori stanno dando una mano importantissima in altri territori sono scomparsi per quanto riguarda le misure economiche abbiamo approvato l'accordo con i sindacati per la cassa integrazione in deroga io sto preparando altre due ordinanze per la chiusura di tutti i cantieri salvo quelli legati alle funzioni pubbliche essenziali e alle attività sanitarie e un'altra ordinanza che impone l'interruzione di attività di 550 comuni della Campania salvo i servizi essenziali bisogna chiudere tutto tutto quello che non è indispensabile non possiamo avere uffici anagrafe in cui ancora la gente va lì a chiedere il certificato di nascita e basta si chiude tutto tranne i servizi essenziali quindi sto in via di definizione di queste altre due ordinanze ringrazio i tanti privati che hanno offerto contributi aiuti sostegno finanziario anche grandi gruppi ringrazio Novartis per la disponibilità ringrazio Conad ringrazio la Banca d'Italia ringrazio Banca Intesa i tanti privati e istituzioni che ci stanno dando una mano lo sforzo che stiamo facendo è davvero gigantesco perfino superiore alle nostre forze per non aspettare con le mani in mano quello che ci arriva da Roma e da Consip stiamo facendo di tutto per cercare nel mondo quello che serve per tutelare la vita dei nostri concittadini abbiamo un elemento di speranza ovviamente dal punto di vista delle terapie vedete che è partita dall'istituto Pascale dal dottor Ascirto anche una terapia che serviva ad altro forme di artrite e quant'altro ma che almeno ad oggi ha dato buoni ottimi risultati in relazioni alle infezioni polmonari non mi avventuro in spiegazioni scientifiche che non sono la mia portata ma insomma tradotto in termini semplici ci sono farmaci che bloccano le cellule la proliferazione di cellule come dire infettate in ambito polmonare quindi questo può dare un grande sollievo e può consentire di mettere in campo delle terapie efficaci e utili a impedire esiti esiti drammatici per chi viene contagiato rimane rimane il dato positivo che donne incinte non ne abbiamo contagiate ripeto che abbiamo un reparto ad hoc attrezzato alla Federico II per dare un aiuto alle donne incinte che dovessero risultare contagiate abbiamo questo dato che stiamo cercando di analizzare è scesa molto l'età della popolazione contagiata in Campania non sappiamo se sia una tipologia di virus già modificata meno aggressiva questo questo non deve consolarci non solo perché abbiamo giovani che vengono contagiati ma perché i giovani anche se hanno esiti magari meno pesanti delle persone anziane rimangono portatori di contagio a loro volta allora non dobbiamo cedere né allo sconforto né all'angoscia la vita che facciamo tutti quanti noi è diventata pesante avremmo tutti quanti l'esigenza di fare una passeggiata di tirare una boccata d'aria di rilassarci non è possibile non ci è consentito siamo in guerra abbiamo la necessità di stringere i denti ma abbiamo anche il dovere e il diritto di pretendere da tutti lo stesso rigore non è possibile che un 20% di imbecilli e di irresponsabili debba rendere inutile il sacrificio di milioni di cittadini italiani questo non è possibile non è tollerabile quindi io sollecito misure francamente pesantemente repressive c'è stato qualcuno che si è avventurato a fare discorsi di filosofia teoretica quando abbiamo come dire il nemico alle porte primum vivere si diceva de inde filosofare pensiamo prima a vivere poi facciamo le scienziaterie e i dibattiti allora noi sollecitiamo misure drastiche che abbiano conseguenze effettive non finte conseguenze reali e se sono necessari provvedimenti repressivi per colpire gli irresponsabili prendiamoli senza pensarci su due volte mi hanno segnalato che a Napoli abbiamo assembramenti alla stazione centrale Vomero zona ospedaliera via Toledo pianura Scampia Chiaia via Cilea zona Vomero con zona Stadio Collana Grumonevano Marano ci arrivano segnalazioni un po' dappertutto nell'agro Sarnese Ocerino la richiesta che ho fatto di avere il supporto anche delle forze armate è mirata ed è legata a quello che ci segnalano i dirigenti delle ASL come assembramenti che rimangono nei quartieri o in alcuni luoghi specifici sollecito ovviamente tutte le forze dell'ordine e le forze armate a fare un controllo duro efficace con sanzioni ai nostri concittadini l'appello di sempre l'angoscia non serve a niente io so bene che si è creato un clima per cui abbiamo a volte la sensazione che anche respirare ci porta ad assorbire il contagio non ci angosciamo adesso e non non cadiamo nel panico se non altro perché il panico non aiuta a risolvere i problemi ma li aggrava guardiamo in faccia però la realtà per quella che è la situazione è diventata pesante se abbiamo misure adeguate a tutti i livelli pagheremo dei prezzi ma il problema può essere governato e risolto senza esiti catastrofici e facciamo in modo soprattutto che nelle regioni nelle quali ancora non siamo a livello di tragedia non arriviamo a livello di tragedia cerchiamo di capire che anche questa è una priorità fare in modo che dove non siamo al dramma non ci arriviamo perché altrimenti davvero per l'Italia sarà un problema irrisorbibile per l'Italia Grazie.